Dopo gara è arrivata un'altra goleata e questa nuova Phoenix a parte qualche occasione avuta nel primo tempo che ha fatto un po' forse venire qualche brivido poi per il resto è completamente sparita dalla scena Sì, siamo soddisfatti del risultato anche di come abbiamo giocato a parte i 5 minuti solidi nostri però per fortuna non ha comportato niente e siamo contenti di come sta andando stiamo cercando di lavorare tanto e di affrontare partita per partita ogni partita è a sé quindi ci alleniamo tanto in base anche alle avversarie non sottovalutiamo mai nessuno e infatti ci siamo allenati tanto anche questa settimana senza sottovalutare l'avversario Allora, Ruzza, è un momento importante di questa stagione per l'Ansio Lavigno rimanere sempre agganciati alla vetta anche perché non si può mollare nulla perché la capolista che è insieme a voi quindi la coinquilina più che altro non proprio capolista non lascia nulla al caso quindi l'Ansio Lavigno costretta sempre a correre Sì, sinceramente tre punti non sono tanti quindi poi pensiamo partita per partita senza pensare ovviamente al fatto che siamo seconde e pensiamo partita per partita e se dovesse continuare così che la prima classifica le vince tutte insomma abbiamo sempre lo scontro diretto quindi punteremo a quello Che campionato sarà almeno in questa parte non solo da parte vostra ma anche un po' da qualche altra prendente di questo raggruppamento? Niente, sarà un campionato dove noi penseremo a migliorare tutte le nostre diciamo le cose che non vanno e pensiamo a noi stesse principalmente Bene, hai cambiato qualche cosa comunque nell'atteggiamento di non solo nello stare in campo anche dare un supporto soprattutto quando non si è in partita? Beh sì, è cambiato anche mentalmente dopo la sconfitta contro il CCP abbiamo capito che la vetta era più lontana da noi quindi dovevamo combattere molto di più che dovevamo vincere ogni partita e quindi è cambiato un po' tutto atteggiamento fisico e mentale L'atteggiamento è importante poi in campo però c'è sempre l'avversario in questa stagione comunque l'ansio va sempre e solo a rincorrere l'obiettivo principale Sì, l'obiettivo principale è sempre quello è vincere il campionato principalmente poi si vede e l'avversario non si sa mai come entra in partita e neanche noi sappiamo come entriamo in partita quindi affrontiamo ogni settimana una sfida nuova una sfida nuova per noi Per finire, il tecnico non rinuncia mai e nell'occasione poi spesso fa ruotare l'organico a disposizione adesso indipendentemente dall'avversario che si trova davanti questo vuol dire che il gruppo è sempre un gruppo compatto è sempre pronta ogni pedina Sì, sì, siamo tutte unite siamo un'ottima squadra ognuna ha le proprie potenzialità nessuno è superiore all'altra poi vincitamente speriamo di ricoverare anche alcuni elementi che sono infortunati quindi siamo una squadra super unita e l'obiettivo, io ripeto, è sempre quello è vincere il campionato noi dalla prima partita fino all'ultima punteremo sempre a quello al primo posto e soprattutto a vincere lo scontro diretto contro il CCP Grazie Grazie